Polifemo sente e vive il clima natalizio, certo è un momento particolare per la nostra città, per la nostra comunità, però dobbiamo anche sorridere al Natale, dobbiamo cercare di divertirci insieme, cercando di fare in modo che almeno per questo periodo i brutti pensieri vengano almeno momentaneamente messi da parte. E allora ecco una bellissima iniziativa che vede protagonisti i Laci, Automobile Club di Taranto e l'associazione Artava. Una bella iniziativa che si sta tenendo oggi domenica 11 dicembre in via Calamandrei. Il titolo è significativo, note di Natale in via Calamandrei. E partiamo dal presidente dell'associazione Artava, siamo infatti con Armando Blasi. Allora parliamo di questa iniziativa, le finalità e poi il programma della giornata. E' una giornata ricca di momenti di aggregazione per la nostra città. Avremo la possibilità di vedere degli spettacoli natalizi, Cori di Natale, Babbo Natale, un momento dedicato anche ai cani, per cui il Col Santas Dog, un momento in cui tutti i cani cippati potranno recarsi qui in via Calamandrei e realizzare una sfilata che verrà premiata poi dall'associazione Cool Dog. Come dicevo prima, un momento di aggregazione. Si vuole valorizzare questo territorio e questa zona di Taranto con questo evento che ormai è diventato un fiore all'occhiello per le manifestazioni natalizie di Tarantine. Un appuntamento importante con la musica, con lo spettacolo, con la Leo Dance e gli Elfi Ballerini e tanto e tanto altro. Per cui noi consigliamo a chiunque voglia intervenire di venire a seguire questa Kermess che inizia questa mattina alle 10 e finirà alle 10 di questa sera.